Dopo due anni di grandi successi e di tutto esaurito, torna, Grangala, Natale sui pattini. Le performance dei campioni mondiali, europei, italiani e degli atleti dell'Aguarino. Anche in contemporanea la grande voce di Ivana Spagna e dalle note del violinista elettrico Filippo Rolando. Due ore adrenaliniche, di evoluzioni da brivido. Due ore imperdibili di sport, beneficenza, arte e spettacolo. Natale sui pattini, sabato 20 dicembre, ore 20 e 30, Palasport, Verona.